Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, in direzione mare, due chilometri di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, con restringimenti percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. In direzione mare ci sono anche rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e il Bivio Pisa-Livorno. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via Bolognese fino al 20 luglio per lavori, restringimenti di carreggiata e divieto di sosta permanente. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!